La provincia è di avere un taglio con la nuova legge di stabilità di oltre il 50% della spesa corrente, quindi di fatto l'impossibilità pratica di riuscire a gestire le funzioni che ci sono state attribuite dalla legge del Rio. Non parliamo poi delle funzioni trasferite o delegate alle regioni per le quali ancora non si sa nulla, ma nel frattempo con il taglio previsto dalla legge di stabilità la situazione sarà veramente drammatica. Noi abbiamo già provveduto a parlare di questo per esempio con i comuni e con i dirigenti scolastici perché non saremo più in grado di garantire né le manutenzioni stradali né lo sgombero della neve dalle strade di montagna e né tantomeno le manutenzioni ordinarie delle scuole.